amiche amici di ciclo web della vuelta a spagna oggi con la seconda volata consecutiva vinta oggi da fabio jacobsen davanti a sam bennett che aveva vinto ieri si chiude questa prima fase di introduzione della vuelta queste prime quattro tappe e da domani già si farà sul serio i velocisti torneranno in scena tra molti giorni forse mercoledì prossimo se se ne salva qualcuno nella tappa di udax danciarinea o sennò molto più probabilmente sabato prossimo a oviedo lì potremo assistere a una volata quindi da qui a sabato prossimo quante sono dieci tappe in cui potrà succedere molto per la classifica e non si potrà più bleffare già a partire da domani domani prima tappa di tre di un trittico di arrivo in salita arrivo domani all'alto de havalambre mentre giovedì si arriva a ares del maestrat e venerdì a mas della costa che è un vero e proprio muro di quelli storici classici della vuelta che tanto ci fanno inorridire poi sabato altra tappa con una salita interessante nel finale ma non si arriva in salita domenica mini tappone ad andorre quindi la classifica cambierà volto ogni giorno praticamente da qui in avanti poi lunedì riposo martedì cronometro a po e non è il tour de france allora domani è già una tappa decisiva per qualcuno è una tappa in cui non si non si può bleffare e in cui bisognerà stare nel gruppetto buono con i migliori limitando eventualmente i danni da qualcuno che dovesse avvantaggiarsi ma restando nel gruppo di cinque sei corritori che prenderanno il proscenio dieci via nei dieci ma già arrivare decimo domani significa secondo me poter perdere sostanzialmente e sostanziosamente terreno a chi penso quando faccio questo tipo di riflessione principalmente penso a fabio aru che è stato sfortunato nella crono squadra vi ricorderete che è caduto poi però si è rifatto domenica nella tappa in cui si è inserito di forza di forza nell'attacco che ha portato al successo di nairo quintana e ha mostrato una buona gamba ha mostrato soprattutto di crederci di voler stare tra i big di questa volta e domani avremo la controprova e lui per primo ce l'avrà domani è già una tappa decisiva per lui perché dico questo perché nella volta poi immaginarsi degli attacchi da terza settimana in cui si recuperano 4 5 6 minuti è molto difficile non è come il giro d'italia o anche il tour de france la volta si gioca su equilibri molto più labili molto più sottili e quindi bisogna semplicemente stare con i migliori non perdere terreno se domani fabio aru invece finirà nella seconda fascia dovrà diciamo riorientare la propria volta in un'altra direzione capirà già domani se potrà lottare per il podio o addirittura per vincere o se dovrà puntare al limite a un posto in top ten magari con un successo di tappa già domani già al quinto giorno purtroppo la vuelta da questo punto di vista è molto crudele e già con questo arrivo in salita durissimo mi ricordo un po la pierce martin del tour de france 2015 già domani separerà il grano dall'olio l'olio senza apostrofo un abusato modo di dire con cui chiudo questo video commento vi do appuntamento a domani quando ne sapremo sicuramente molto molto di più ciao da ciclo web